buongiorno perché questo video allora molti in molti mi state chiedendo ma che lavoro fai che vai sempre in giro ragazzi è semplice nel senso non è facile ma è semplice io ho delle società con la mia compagna abbiamo un'agenzia del turismo noi d'estate spingiamo il turismo a valona vlor ora molti mi chiedono anche saranda abbiamo qualcosa anche a saranda xamil perché comunque oramai dopo cinque anni ci conoscono tutti però siamo molto forti e radicati sul territorio di vlor per una scelta non abbiamo deciso di fare un tour dell'albania in questo momento ma siamo in contatto con dei tour operator che fanno questo e così così ho detto in spagnolo poi vi spiego perché in spagnolo così stiamo stringendo degli accordi bene questo è un ramo di quello che stiamo facendo poi io mi occupo di real estate cioè immobiliare però però vi dico non è immobiliare totale cioè molti di voi mi dicono ah voglio una casa vista mare fronte mare no no e perché vi dico questo è fondamentale questo ascoltate bene l'edilizia albanese in generale non è rifinita come io sto parlando agli italiani che vogliono comprare le case qua come quella italiana c'è un edilizia più più precisa più rifinita in italia come se vai a comprare una casa in francia i muri sono tutti in cartongesso qui no qui sono tra mezze ma non sono ancora al top rispetto a quello che sono in italia quindi quindi io tratto solo 2 barra 3 cantieri dove conosco il costruttore e so che fa il sifone in bagno il sifone lo fanno per forza sotto il lavandino sotto il bidea io sto parlando di un in albania si utilizza si usa fare una grata supplementare nel bagno che confluisce l'acqua anche della doccia diretta in quella grata però non essendo sifonata a volte escono i cattivi odori e la maggior parte delle case vecchie sono fatte così le nuove costruzioni nel caso del cantiere che sto trattando io ho parlato col costruttore dicendo ma lo fa il sifone per scherzare lui mi ha detto sì perché comprende ma non è solo quello è un esempio ragazzi non fermiamoci alle semplici parole è un esempio e quindi mi occupo di immobiliare ma focalizzato non vendo qualsiasi cosa come fanno chiunque vabbè lasciamo stare ok avete notato che ho tolto la bandiera perché ho capito che era cinese quindi per una forma di rispetto a miei fratelli l'ho tolta avevate ragione ma nessuno me l'aveva scritto la motivazione me la sono fatta spiegare perché ero curioso perché me lo dicevate e l'ho fatto poi altra cosa organizziamo i tour estivi sulle barche molto nel nostro tempo in estate se non il 90 per cento è dedicato al turismo ora avendo questo tipo di business legato al turismo soprattutto estivo noi di inverno comunque riempiamo le strutture che collaborano con noi o d'inverno la possibilità di viaggiare poi in questo momento sto trattando anche questo prodotto attraverso anche altre persone quindi fondamentalmente posso dedicare del tempo a me stesso ecco perché mi vedete sempre in giro in più in più sono felicissimo io lo sapevo che il 2024 era l'anno importante decisionale e definitivo in che senso tantissime persone del mio passato di un certo livello cioè quindi costruttori fiscalisti commercialisti imprenditori che a distanza di cinque anni che io sono qua visto quello che è successo l'anno scorso nel 2023 c'è stato il boom dell'albania hanno detto cavolo guardiamo un po l'albania ora alcuni di loro non è che mi seguono dal canale ma hanno il mio numero perché sono miei conoscenti professionisti importanti grazie a dio qualcosa ho fatto nel passato no faccio solo video la mia vita nei video la mia nuova vita in albania data dai video è nata due anni fa ma se c'ho 50 anni io per 48 anni avrò ho fatto altro bene queste persone mi contattano mi fa ho saputo che sei in albania e io dico sì guarda un poco da sto facendo anche sui video mi guardo sui video fa che storia che bella che l'albania e vengo a trovarti e a me non vengono a trovare persone che come si dicono dipendenti ok voglio voglio far passare questo messaggio importante le persone che vengono a trovare me sono persone che hanno aziende che hanno imprese che hanno studi e quindi con loro si sta per intraprendere un 2024 importante quindi io sono grato al web perché ho voi amici follower che mi volete bene che mi rispettate ed è bellissimo quando mi incontrate mi riempite d'orgoglio nell'abbracciarmi nel salutarmi del a volte mi dite grazie per quello che sto dicendo per quello che faccio i bambini che mi seguono ok chiuso questa parentesi ma fortunatamente io ho 48 anni di attività improprio cioè non ho sempre fatto l'imprenditore sono partito come elettricista come mulettista primo lavoro dopo un anno ho fatto l'elettricista dopodiché ho smesso iniziato a vendere l'avevo già raccontato in un video vallo a riprendere ho conosciuto queste persone e queste persone si ricordano di me perché avevo fatto del bene in passato quindi la risposta è ma sto personaggio cosa fa questo personaggio lavora da tantissimo tempo nell'immobiliare nell'assicurativo e nella gestione di denaro sto parlando dell'italia qui non gestisco denaro ho trasmigrato le mie conoscenze le ho portate in albania e quindi faccio immobiliare non assicurativo immobiliare la mia compagna carla che conoscete tutti fa turismo e in più vendo perché siamo commerciali vendo qualsiasi cosa nel senso che vendo le case che vendo i pacchetti vendiamo regite turistiche abbiamo delle barche in collaborazione quest'anno quest'anno il turismo sarà pieno e ragazzi vlor valona l'albania ma soprattutto valona 2025 avrà l'aeroporto 2025 avrà il porto 2025 avrà il tunnel che collega saranda più velocemente già da prima ma per dire e se io vi dico questo è il momento di comprare le case molti scrivono nei commenti e ma se è un pazzo adesso investire in albania non è sicura nel 1980 e prima comprai in italia non c'erano le fide usioni bancarie a garanzie di un impresario quindi tu potevi comprare un immobile l'impresario falliva e tu rimanevi così ma la domanda è prima del 1980 le case si vendevano sì ragazzi sì oggi si sono tante di quelle tutele ma che rallentano a volte i cervelli fatemelo passare poi interpretate non siate sciocchi nel rispondere parlo agli haters no le persone mi vogliono bene non c'erano queste garanzie eppure c'era un interscambio immobiliare c'è stato il boom immobiliare negli anni 80 la milano bene tutte queste cose qua dappertutto non solo in italia milano bene qui siamo ancora così e c'è gente che sta comprando casa che sta già incrementando il suo valore non ho garanzie e allora chi non risica non rosica e chi non rosica risica ma non so che anche come si dice quindi fondamentalmente ragazzi cosa fa max in albania max in albania ha delle società delle sue imprese e lavora tante ore al giorno poi mi vedete per 45 minuti davanti a un video vi garantisco che i video che vedete siccome è chiaro adesso è tutta una tirata quindi non sto montando che i miei video non sono montati sono così semplici le persone quando mi incontrate mi dite mi chiedete oh ma cavolo ma sei così ma sei veramente come nei video sì perché non c'è artefizio non c'è montaggio non ci sono copertine nei miei video sono fatti in maniera artigianale ciò nonostante supero quasi quasi non ci sono ancora 130 mila follower da una piattaforma e sono 8.000 quasi 5 da un'altra piattaforma ragazzi ecco cosa fa questo personaggio perché poi mi scrivono così le persone o che mi invidiano o che mi odiano o che non sanno cosa scrivere lavoro lavoro tanto nell'imprenditoria e faccio questo e molto altro non mi fermo solo a questo ogni giorno faccio degli appuntamenti conosco persone tra le persone che conosco non conosco per rispetto capitemi il macellaio non sto 12 ore a parlare con un macellaio perché so che non mi interessa imparare a tagliare la carne sto con un commercialista sto con un imprenditore sto con un costruttore immobiliare e quindi le mie skill o le mie capacità parliamo in italiano aumentano ecco cosa fa massimiliano sanacore in albania è quello che faceva lo stesso massimiliano sanacore in italia per chi non lo sapesse massimiliano sanacore sono io nome e cognome ci metto la faccia e il nome e cognome vi voglio sempre sempre tanto bene i miei follower amici lo sanno vi aspetto per potervi abbracciare salutarvi bere un caffè e se il video vi è piaciuto mi raccomando like pollice in su condividetelo e vi aspetto quest'estate perché sicuramente il tempo è migliore e quindi io sarò qua poi d'estate non mi muovo da valona d'inverno avendo un po di più tempo mi vedrete viaggiare ciao ragazzi domani sono a milano adesso sono a casa mia a valona ciao